Buongiorno a tutti, eccoci qui per un nuovo video. Un saluto a tutti da Max e torniamo virtualmente nella casa del grande fratello VIP che sappiamo ormai va in onda soltanto con un appuntamento settimanale, appuntamento per quanto riguarda la diretta e le emozioni si vanno a concentrare quindi soltanto in una volta e anche in questa diciannovesima puntata non è stato da meno. Eh sì, i resoconti delle situazioni che ci sono, no? Sapevamo già che sarebbero schiattate un sacco di cose e mentre invece dal punto di vista medico sembra essere tutto rientrato alla normalità, con un solo positivo covid in quarantena, Alberto De Pisis in questione, che... e niente, insomma, a parte questo è successo veramente di tutto. Liti, gelosie, nuovi amori, coppie appena nate che scoppiano, poi e chi più ne ha più ne metta, sì, perché parliamo con i preferiti della serata, cominciamo con il televoto, confermato ancora una volta Nikita Pelison, mentre i prescelti nella casa e delle giurate sono Riana Marzoli, Antonino Spinalbese, Luca Onestini, Luca Salatino ed Edoardo Tavassi. Sapevamo che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione, l'abbiamo già detto e stradetto, e poi però ci sono i nuovi nominati, che invece sono Patrizia Rossetti, Micolin Corvaglia e Luciano Punzo. Ma adesso, veniamo a noi, vediamo, veniamo alla classifica top e dei flop della settimana, della settimana, della serata più che altro. Forse è un po' controcorrente, ma il primo top è per Antonino Spinalbese, perché è stato accusato di essere poco sensibile verso Oriana Marzoli, con la quale ha interrotto ogni frequentazione, e si è tra l'altro dimostrato sempre in linea con il suo modo di essere sincero proprio negli intenti. Secondo top per Vilma Goic e Daniele Dal Moro, e la loro amicizia speciale, che secondo la vippona la fa sentire nuovamente viva. E completiamo la classifica, cioè anzi il podio con il terzo top, ovvero con Mikol, che seppur non brilli sempre per simpatia estrema, ultimamente è stata presa troppo di mira da parte delle sue coinqueline, in modo del tutto gratuito e cattivo. Nonostante questo non ha mai però perso davvero le staffe. E invece i momenti negativi, cioè i flop. Come al solito, sempre più flop dei top, e il primo va a Oriana Marzoli e le sue lacrime per Antonino Spinalbese, versate a fiumi dopo la rottura e neanche due settimane di conoscenza, quindi abbastanza prematuro direi. Il secondo flop va a Vilma Goic e Patrizia Rossetti, per le frasi infelici e le frecciatine cattive nei confronti di Mikolin Corvaia, presa diciamo un po' troppo di mira nell'ultimo periodo. Come se di bullismo non avessimo già parlato abbastanza, in realtà lo abbiamo cominciato questo grande fratello con il bullismo. E ultimo flop per Nikita e il suo comportamento poco rispettoso nei confronti di Antonella Fiordelisi e delle confidenze riportate ad altri sul suo conto. Siete d'accordo con questi top? Siete d'accordo con questi flop? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo è stato un piacere, vi auguro una buona giornata a tutti, noi ci sentiremo in giornata per altre news, mi raccomando, vi aspetto.